Neve tanta quanta non se ne vedeva da tempo e così avanti a spalare per mettere a puntino il campo da gioco per le sfide che assegnano, dopo una settimana di gare, a cominciare dal 15 febbraio, il trofeo Winter Polo 2009. Il terreno di gioco è in realtà il lago di Misurina, in Cadore, a 1750 metri d'altezza, su cui dominano le Dolomiti. Fa freddo, anzi, gela come da anni non si ricorda. Così le pellicce e i monbutt hanno finalmente l'occasione che aspettavano, uscire dalla naftalina in cui stavano. Godibilissime le partite dove cavalli e cavalieri pestano, i primi sul ghiaccio ed i secondi sulla rossa palla in cerca del tiro che fa gol. A far da padroni, contro cui si accaniscono gli avversari, sono sempre gli argentini. Non a caso, i cavalli vengono da quel paese, perché i più adatti a questo sport. 5 le squadre in campo che si contendono il trofeo. L'Audi Polo Team, il Malo Polo Team, il Cortina Polo Club, l'Hotel della Post Polo Team e lo Julius Bar Polo Team.